Stanno arrivando a Pigliatti, dopo i primi discorsi hanno avvisato quelli della Neuro che gli ho detto però ora arrivano. Nel frattempo leggiamo, hanno abbattuto il muro di Berlino, in Italia l'avrebbero condonato, che è stupenda il condono del muro di Berlino. Poi scrivi sotto, vorrei conoscere i muratori bravissimi che hanno costruito il muro del suono, primo maggio 2015, come mai questi due pensieri? Ma perché io ho trovato un frammento del muro di Berlino stupendo che è questo, che potrebbe essere fatto da un grande muralista tipo Bastia o Kittering, Bastia, meglio Bastia, un grande Bastia. Perché l'hanno abbattuto, ma quello poteva essere veramente un museo en plein air, en plein air. An plein air, senti un retino a cielo aperto, lui è un plein air. Ma certo, è come io ora per dire nell'attesa dell'ambulanza, che gli dico ma perché non vai a catturarlo nel buco dello sfinterianale? Può mettere quante raffinare così come andare a un affanculo? Beh certo, hai detto. Sono passati, meno male che ci hanno visto. Ti li dico che questa è massima, io non cerco, trovo, quindi il grande lavoro è camminare e trovare le meraviglie che... Esatto, allora fa una cosa, trova il verso di fare i discorsi più intelligenti. Ciao, ciao.